buongiorno a tutte ragazzuole soprattutto perché immagino che i maschietti non siano interessate a questi video tutorial oggi sto facendo questo video tutorial sul punto festone lungi da me dall'insegnarvi a cucire perché proprio io sono completamente negata come già detto in altri video tutorial io odiavo tutto ciò che era la manualità ho iniziato questo lavoro semplicemente perché ho accompagnato mio marito in un corso per palloncini a roma e poi da lì ho cominciato ad appassionarmi e piano piano quindi ho iniziato a fare diverse cose a lavorare a gomma e va quindi poi anche il feltro e sul feltro ovviamente quello che viene viene fatto è il punto festone ora ci sono una marea di video tutorial quindi più che altro questo mio sarà per darvi dei consigli su come realizzarla al meglio primo problema che si pone quando si trova il punto festone è quale filo utilizzare inizialmente io utilizzavo il filo da uncinetto messo a doppio e avevo questo risultato il risultato che non mi convinceva per due motivi uno perché si vedevano molto le imperfezioni e due perché il punto festone un punto ornamentale e in questo caso non veniva risaltato allora così per caso ha cominciato di vabbè proviamo altri filati quindi sono riuscita a provare anche la lana molto molto sottile la più sottile che si trova in commercio ora con la lana innanzitutto viene più elegante almeno al mio parere viene molto più elegante e poi si notano di meno quelle che sono l'imperfezione sul punto festone arriviamo al secondo un problema che si pone quando bisogna cucire il punto festone col punto festone è un punto semplicissimo l'unico problema che si riscontra è quello appunto della precisione cioè bisogna cercare di realizzare questi punti tutti alla stessa distanza qui vi insegnerò un trucco che non è il mio ma sono riuscita l'ho letto perché sono riuscita in un posto in un commento che è una signora ha fatto in uno dei tanti gruppi di cui faccio parte ora non ricordo il nome della signora altrimenti l'avrei nominata volentieri per ringraziarla se la signora si riconosce può comunque dirmelo così magari la ringraziamo pubblicamente e questo trucco è quello di fare due linee vedete due linee sul con un pennarello sul dito e questo vi servirà per mantenere la stessa distanza sull'unghia del pollice una volta realizzato questo andremo potrete realizzare i punti tutti alla stessa distanza realizzate queste due linee iniziamo a cuscire altro punto diciamo particolare del punto festone è l'inizio e la fine allora iniziamo facendo un punto da dietro in maniera tale che il nodo rimanga dalla parte rovescio riusciamo più o meno un po più spostata rispetto a dove siamo entrati per poter tornare nella parte di dietro da qui ritorniamo in avanti e iniziamo con il nostro punto festone quindi infiliamo da dietro una volta arrivata a questo punto andremo a infilare lago in questo cappietto che si è venuto a formare è un punto semplicissimo questo è il primo punto una volta realizzato il primo punto spero che si veda tenendo conto della seconda linea io vado a effettuare sempre da dietro vada a riuscire sulla seconda linea dove ho fatto la seconda linea sull'unghia una volta sempre che il filo è passato quasi tutto vado a riuscire sulla seconda linea vado a rinfilare lago all'interno del cappietto e continuo così pongo la prima linea in corrispondenza del punto che ho effettuato e vado da dietro a riuscire in corrispondenza della seconda linea che ho realizzato sul sempre sulla sull'unghia quindi infilo lago e tiro ne faccio vedere ancora un altro pongo la prima linea in corrispondenza di questo punto riesco in corrispondenza del secondo punto e continuo così fin qua fino alla fine ora sono arrivata quasi alla fine ed ho finito il filo allora vi farò vedere fra un po come chiudere comunque una volta che ho chiuso per ricominciare rientro sempre da dietro sullo stesso punto che avevo fatto sull'ultimo punto che avevo fatto il solito discorso che il nodo deve rimanere dietro quindi da qui torno indietro e faccio il punto festone ovviamente dovremmo cercare di mantenere anche sempre la stessa linea qui sulla base vedete questo deve essere sempre più o meno la stessa ogni tanto a me qualche punto scappa una volta realizzato il mio ultimo punto cosa faccio da davanti vado verso dietro ripassando entrando lo stesso punto dove ho fatto l'ultimo punto una volta che sono dietro vado semplicemente a fermare il punto prendendo leggermente un po di stoffa e quindi facendo poi un cappio su questo questa è la fine del mio punto qui è dove ho iniziato vedete si vede veramente poco ho realizzato un giacchino per il mio coniglietto che andrà su un'altra mongolfiera vi farò farò lo stesso sulle braccia e quindi il gilet sarà pronto dopo 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 Grazie a tutti